Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo poi in un vlog parlato, quindi come al solito vi esorto a chiudere il video in caso voi abbiate la voglia di guardare un video gameplay, oggi non ci sarà. L'argomento come ho detto dal titolo sono le bugie, vi ricordo prima di inserire il video c'è un bel pollice in su, un commento poi a fine video riguardante il video in sé e di attivare la campanellina per le notifiche. Allora oggi parliamo dell'argomento bugiar, in realtà io non avevo in mente questo video, proprio zero, solamente è accaduto un fatto che mi ha fatto scattare in mente una campanellina e diciamo questa cosa mi ha fatto rimanere un po' male, non è una cosa gravissima, realmente nella vita di tutti i giorni accade spesso, proprio perché accade spesso non bisogna lasciare diciamo impunito questo fatto, secondo me. Ovviamente non starò a parlare di persone o di argomenti ben precisi perché non voglio, non voglio che questa persona possa capire se sto parlando di lei anche perché secondo me gli errori vanno capiti, quelle persone che dicono ad altre persone di chiederti scusa oppure quelle persone che ti fanno capire che devi chiedere scusa, che hai fatto qualcosa di male, per me sbagliano perché se una persona ha fatto qualcosa di male e non se ne rende conto vuol dire che manco se ne accorge di quel che fa, manco tiene conto di quel che pensa l'altra gente e quindi per me quella gente può anche sparire. Talvolta si vedono spesso stati di Instagram, di Whatsapp dove tu provi a mandare un messaggio subliminare ad una persona che ha fatto un errore o una cazzata per fargli capire che ha fatto una cazzata o un errore verso di te e non c'è bisogno perché se si deve scusare si scusa e basta, non ti devi dirgli mi chiedi scusa? Se poi te lo chiede il valore di quelle scuse va a valore zero perché ovviamente non sai manco perché ti stai scusando perché se lo sapessi ti sarai scusato da solo quindi molto probabilmente quello che ha fatto riaccadrà, risuccederà il litigio eccetera eccetera. Comunque per parlare di bugie, ragazzi nella vita si mente spesso, si mente spesso soprattutto a noi stessi, anche mentendo agli altri si può mentire a noi stessi, quella cosa che ho appena detto non saprei spiegarvela ma è così. Sistematicamente ragazzi le persone che ci fanno più male dicendo delle piccole bugie non a fin di bene sono proprio quelle persone che ci stanno più a cuore o ci stanno più vicine o meglio si pensa che ci stanno più vicine. Comunque è successo che io ho conosciuto una persona di sesso femminile che mi sta molto simpatica, niente di più, molto simpatica, siamo molto amici o meglio questo è quello che credevo e ogni volta che ci vediamo passiamo da due momenti molto simpatici, molto belli, molto divertenti, ridiamo, scherziamo, stiamo bene quando siamo insieme, rimanendo sempre in termini di amicizia. Cosa succede? Una volta vado io dove abita lei perché non abitiamo nella stessa città, la seconda volta pure, la terza pure, ci siamo visti qualche volta, ci siamo rivisti, di cui ci sentiamo, parliamo di qui di là, di qui di là, di qui di là. Quando è che vieni anche te a Firenze? Perché giustamente non è che ho sempre i soldi per andare io nei posti. E cosa succede? Eh non posso perché ho un fattore X che non mi permette di venire e questo fattore X ragazzi è un fattore X molto diciamo aggirabile nel senso che, e ora parliamo ovviamente, tanto ragazzi le persone che conosco io hanno tutte dai 20 ai 25 anni, quindi parliamo di studio in generale. Le persone che studiano ragazzi, non dire non facciano un cazzo perché comunque sia chi studia qualcosa fa, sia chiaro, però diciamo è chi studia la possibilità, a meno che non sia sotto esame, di diciamo gestirsi lo studio in maniera diversa, va bene? Non è come un lavoro che lavori dalle 7 alle 7 e allora tu non puoi spostare l'orario quando cazzo ti pare, ma semplicemente le persone che studiano possono dire ok magari studio due ore in meno al giorno in questi tre giorni in cui vado per esempio a Firenze, però magari studio due ore in più al giorno quando torno dove devo andare, no? Quando mi viene detto non posso perché studio, magari non mi vuoi vedere, ok? O magari semplicemente è vero che stai studiando, quindi rimanendo in buona fede che siamo molto amici, mi chiede sempre ti sto simpatico, che siamo amici, che stai bene con me, rimanendo in buona fede e capisco che tu devi studiare veramente. Al momento che però questa diventa una bugia, a fin di bene, per non dirmi guarda Stefano non c'ho voglia di venire a Firenze, non mi rompere il cazzo, allora si presuppone che tu dopo mantenga fede ai miei occhi almeno al tuo studiare, ovvero cosa vuol dire? Per me tu stai studiando e non puoi andare da nessuna parte perché devi dare gli esami eccetera eccetera e questo do rispetto. Ma al momento che poi ti vedo in giro a fare i cazzi tuoi in delle città che sono per lo più vicino anche alla mia, vicino a Firenze, quindi diciamo che il viaggio in treno ti sarebbe durato tipo un quarto d'ora in più e non di più, dico dentro di me, ok? Quindi era una scusa, vabbè però magari sono amici di infanzia, magari sono andato a trovare persone che conosco da molto più tempo, allora mi documento prima di odiare una persona o di odiare un suo comportamento o di categorizzarla come una bugiarda e mi viene detto sì li conosco da qualche mese, che è meno più o meno di quanto conosce me e qui voi direte no? Ma fattene una ragione, non rompere il cazzo perché devi dare della bugiarda, perché lo è? Ma comunque sia, il punto è questo, sono una persona che non ha molti pelli sulla lingua, quindi se non ti voglio vedere, non è che ti sto a dire no, non posso perché, no vorrei ma non posso, no, ti dico di no e basta, ti dico no, fine, non c'è nessuna bugia, tu sai che è un no e non ti aspetti niente. Ma al momento che tu mi dici non posso perché studio e a fronte del volermi bene io ti dico ok va bene, casomai faremo in un'altra maniera, se poi però tu nei giorni in cui dici a me che non puoi muoverti perché hai l'esame, ti muovi per delle persone che conosce almeno tempo di me, allora io dico ok bastava dirmi Stefano mi stai sul cazzo, era tutta una scusa, così almeno puoi fare il cazzo che ti pare, puoi andare in giro, puoi ferire una persona molto meno che in questa maniera, quindi queste bugie ragazzi piccole ma letali, no eh, capito? Perché soprattutto se rischiamo di ferire delle persone completamente a caso, ci possono essere dei casi in cui la bugia fa meno male della verità e in cui possiamo dire una bugia, possiamo anche però saperla gestire meglio una bugia, magari se dico a una persona che non posso uscire con lei perché ho da fare, magari non è vero, però magari non voglio nemmeno uscire con lei quella sera, sicuramente quella sera non mi farò vedere a giro con nessuno o se esco con qualcuno non smantello sui social tutto quello che ho fatto, altrimenti quella persona lo vede e rimane ferita, magari io millantando anche l'amore e il bene che li voglio, è inutile che faccia queste puttanate, altrimenti faccio male alle persone, quindi mi chiedo perché si può essere così cattivi con le persone, perché si deve dire le bugie per forza, se una persona non mi vuole vedere non me ne frega un cazzo, cioè nel senso non è che muoio, ho tante persone da vedere, quindi posso anche non vederne una, non me ne frega assolutamente niente, però magari evito di rimanerci male, capito? Questo è il punto, cioè disprezzo più una persona che fa una cosa del genere che una persona viene a dire guarda Stefano mi stai sul cazzo, basta non mi scrivere più perché veramente mi ha rotto il cazzo, cioè lo preferisco molto di più ed è quello che faccio io, cerco di allontanare le persone che non voglio sentire magari in quel momento o magari più perché lo trovo molto più dignitoso di una bugia gestita male come in questo caso e di bugiardi ne è pieno il mondo ragazzi, ne è pieno il mondo ma di qualunque tipo di bugia, ora io ho fatto l'esempio pratico mio perché volevo diciamo sfogarmi un po' di questa cosa e tendere e cercare come al solito di farne una morale, un po' per tutti, ma non perché io sia il sommo, sia il divino, sono l'unica persona che sa, no, semplicemente perché spero che alcune mie diciamo avventure, anzi disavventure possono servire da esempio a voi, ad esempio magari cercate di stare sempre più sull'attenti, cercate magari di capire quando una persona vi vuole bene veramente oppure semplicemente sto cercando di prendere tempo per poi mandarvi affanculo per farvela pesare sempre meno, cioè quando io ti dico ti voglio bene, vieni su per favore almeno ci vediamo, è un mentire a se stessi perché quando io ti dico, cioè mi sentirei sporco, se ti dico per favore vediamoci, per favore ho bisogno di vederti, per favore sto bene quando sto con te, ma ripeto in senso d'amicizia, rimaniamo sul senso d'amicizia, quando tu mi dici queste cose e non te ne frega un cazzo in realtà, perché lo fai? cioè se poi ti dico va bene vengo, dopo io direi no, io persone che diciamo uso le menzogne per tenerti a bada, se poi l'altra persona a cui io sto mentendo viene da me, dopo tutto mi sta sul cazzo a quanto pare se devo raccontargli le bugie per non vederla, se vieni davvero dopo gli ho detto vieni tu, dopo dico no, che coglioni, è quello il punto, insomma la menzogna tende a tornare indietro poi, quindi alla fine il karma fa il suo corso, per quanto poi non chieda ste puttanate, e ripeto ci ne sono di bugie affin di bene che funzionano, che ne so, come dire che la medicina al bambino ha un buon sapore, e gliela dai, lui dice madonna che schifo mamma fa cacare la medicina, però gli fa bene, però in quel modo almeno l'ha presa la medicina, invece in questo modo è solamente una bugia affin di bene che però fa male a me, e a te ti alleggerisce la coscienza, quindi puoi anche andare a fanculo, niente ragazzi questa era una mia diciamo esternazione verso un tipo di bugiardo, poi ce ne sono tanti tipi, magari in futuro ne troverò altri, farò un altro video del genere sui bugiardi, spero che in realtà questo video vi metta in guardia verso molti di questi bugiardi, e spero che questo video serva da lezione per molti bugiardi magari che finora l'hanno fatto con leggerezza, e adesso magari capiranno che quando uno dice una menzogna, diciamo che ha delle conseguenze, diciamo che l'ultimo esempio che posso fare è un amico e un altro amico vogliono uscire insieme per parlare, e magari c'è un terzo amico, o addirittura magari sono tre amici, e c'è un quarto amico che vuole sempre uscire con loro, magari loro però non lo vogliono quella sera perché vogliono parlare di cose private, vogliono fare una serata magari tra amici più stretti, però allo stesso tempo non è che odiano quell'amico, semplicemente vogliono tenerlo alla larga per quella sera, ma ovviamente non possono dire di no ci sei sul cazzo, perché effettivamente non ci sta sul cazzo per dire. Allora in quel momento posso dire una bugia a fin di meno, ovvero guarda se non ci sono perché, se non ci sono perché, se non ci sono perché, ci vediamo tutti e tre e magari parliamo di quelle cose, perché magari lui si sente parte magari di quelle tre persone più di quanto lo sia realmente, e allora tende a diciamo immaginarsi sempre con loro, però magari così non è, e magari gli è anche stato detto e magari lui non lo vuole capire, allora a fin di bene uno dice guarda non ci siamo stasera, poi realmente usciamo, parliamo, la volta dopo usciamo tutte e quattro, e la cosa è bella che è finita, ovviamente quella serie in cui usciamo tutti e tre, per evitare di ferire ulteriormente sui sentimenti, non si mettono video e foto su Instagram, altrimenti quella persona li vede, e sono come dei coltelli che li si infilano nella schiena. Quindi ragazzi niente, questa era la modella del video, vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commento facendomi sapere le vostre esperienze in termini di bugiardi, le vostre esperienze diciamo in questo mondo, e ci vediamo comunque al prossimo video, per questo video è tutto, ciao Nini! Ciao Nini!